Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di fotocamere e soprattutto nello specifico la fotocamera di iPhone 7. Come vi avevo promesso sono tornato dal viaggio in Portogallo e ho portato con me alcuni scatti da analizzare insieme in cui ho prestato particolare attenzione a una serie di dettagli tecnici e soprattutto ho cercato anche in alcuni casi di fare un confronto tra la fotocamera di iPhone 7 e la Sony RX100 che è la telecamera che uso tutte le volte che voi vedete un mio video su YouTube e mi sta riprendendo anche in questo momento. Vi invito a rimanere fino alla fine perché ci sarà una sfida e un sondaggio alla fine di questo video che vi coinvolgerà in maniera piuttosto diretta. Durante il video vedrete anche una serie di accessori che ho utilizzato durante le riprese e anche durante gli scatti delle foto che andiamo ad analizzare. Trovate il link ovviamente di tutto qui sotto in descrizione come è sempre stato. Una delle novità più interessanti che ha introdotto iPhone 7 è una novità software ossia la possibilità dello scatto in RAW. Si tratta infatti di una possibilità che di solito è in uso sulle fotocamere professionali e devo dire che mi ha molto stupito la sua implementazione almeno quanto il fatto che porca miseria non l'hanno messo come opzione disponibile nella fotocamera di default di iPhone ossia nell'applicazione fotocamera non è possibile selezionare lo scatto RAW soltanto JPEG. Non ci si spiega ancora il motivo. Ovviamente sono dovuto passare per l'applicazione di terze parti come può essere Lightroom oppure Moment che è l'app ufficiale delle lenti di cui ho già parlato anche qui sul canale. Andiamo a vedere in cosa differisce dal formato JPEG e soprattutto perché è utile utilizzarlo nella maggior parte dei casi. Andiamo velocemente ad analizzare ad esempio questo scatto del ponte di Porto. Il ponte di Porto tra l'altro è stato realizzato e progettato da Eiffel, quello della Tori Eiffel. Molto bello, molto pittoresco, scattato sia in JPEG che in RAW per amor di confronto per l'appunto. Andiamo a zoomare parecchio sui dettagli e vedete come nella variante JPEG sia molto difficile distinguere tra di loro i singoli tralicci, si impastano tra di loro, i bordi non sono per nulla nitidi, i fili del drama sono quasi invisibili, le persone sono delle macchiette sullo schermo e guardate come dettagli soprattutto nelle parti più in ombra qui della vallata siano un impasto di colori molto omogeneo. Lo scattolo RAW nello specifico invece potete vedere, anche se ho già zoomato, potete vedere come i tralicci invece risultino molto più nitidi e i singoli elementi che li compongono facilmente distinguibili gli uni dagli altri. Vedete come i fili del drama siano ancora percepibili e come la vallata sulla parte retrostante non sia un ammasso di macchie informi ma di fatto si possa quasi capire com'è strutturata. Questo ovviamente è un croppaggio veramente estremo, serve solo a farvi capire come i dettagli risultino mantenuti e non distrutti dalla compressione JPEG nel caso di scatto in RAW. Vedete anche come l'algoritmo di riduzione del rumore che normalmente applica iPhone a tutti i suoi scatti non è stato appunto applicato, vedete come il rumore digitale dovuto alle alte ISO è stato mantenuto nella parte di cielo nel caso di RAW e invece in JPEG è stato completamente appiattito e questo ha fatto ovviamente sì che i fili del drama ad esempio sparissero in maniera totale. Quindi decisamente un bel miglioramento per quanto riguarda le possibilità almeno di salvataggio delle foto, questo di avere uno scatto sia in JPEG che magari un originale che permette un editing molto più profondo per alzare un po' la qualità dello scatto finale. Nello specifico vedete come si possa confrontare uno scatto JPEG appunto realizzato così di default con i settaggi minimi della macchina fotografica di iPhone con quelli ho fatto con la Sony RX100. Vedete come il bilanciamento del bianco sia totalmente un'altra cosa, ovviamente zoomando i dettagli del ponte qui non sono neanche da considerare, sono estremamente più nitili ma ha un sensore molto più grande ovviamente una risoluzione quindi risultante della fotografia anch'essa molto più elevata. Però vedete anche come utilizzando lo scatto RAW si possa poi procedere con un editing magari anche leggero perché qui ho fatto veramente pochissime modifiche allo scatto finale per ottenere un risultato veramente simile, veramente comparabile. Bilanciamento del bianco sistemato grazie al camera RAW e soprattutto alzando le luci e sistemando i contrasti si riesce ad ottenere uno scatto più che dignitoso. Vedete il confronto che ci può essere tra lo scatto della RX100 e di iPhone e le differenze non sono poi così percepibili. Ovviamente poi si può andare ad editare anche lo scatto della Sony e le cose cambiano ulteriormente però insomma devo dire che la libertà che concede questa nuova modalità di scatto, questa nuova modalità di salvataggio è piuttosto ampia e iPhone mi sta un po' stupendo da questo punto di vista. Anche qui ovviamente è tutto nell'ottica di una pubblicazione sui social, una pubblicazione non professionale soprattutto e sicuramente non per forza a mezzo stampa perché qui le cose si farebbero estremamente più complicate. Altra cosa importantissima per la fotografia è il range dinamico della macchina fotografica che si sta andando ad utilizzare. Nello specifico vedete come questo scatto fatto all'interno di una bellissima libreria che si trova a porto in cui tra l'altro è stato girato anche una parte delle scene di Harry Potter si è stato messo alla prova il sensore e le capacità appunto del range dinamico di iPhone 7. Vedete come questa vetrata completamente illuminata posizionata al secondo piano sia perfettamente a fuoco e soprattutto sia facile distinguere i dettagli che la compongono tanto quanto almeno la parte molto più in ombra è posizionata addirittura un piano sotto di questi intarsi nel legno appunto posizionati in una zona di molta molta più ombra. Ovviamente zoomando potete notare come si vada un po' a perdere purtroppo con la compressione jpeg visto che questo non è uno scattolo si vada a perdere un po' il dettaglio però comunque molto soddisfacente il range dinamico garantito di default della macchina fotografica di iPhone secondo me. Il range dinamico ovviamente è influenzabile via software ad esempio utilizzando gli scatti hdr cosa che tra l'altro iPhone permette di fare e io vi consiglio di utilizzare sempre visto che poi iPhone 7 è super veloce a scattare quindi vi consente di scattare sia il jpeg classico sia la versione hdr praticamente in un solo istante. Confrontare queste due foto che hanno una criticità piuttosto evidente ossia il fatto che ci sono delle zone di ombra piuttosto marcate in primo piano e invece delle zone di forte luminosità in secondo piano. Risulta un po' strano e un po' plasticoso lo scatto hdr quando sono veramente disumane le differenze tra le parti scure e le parti chiare quindi in questo senso è molto importante che la fotocamera di default diciamo di iPhone 7 abbia un range dinamico buono già di default. Trovo che uno scatto così critico realizzato con queste condizioni di luce abbia comunque delle possibilità di essere facilmente salvato grazie appunto alla capacità di cattura nelle zone di ombra nelle zone di luce di iPhone 7 veramente degna di nota. Però vi faccio un altro esempio molto velocemente vedete come ad esempio in questo scatto fatto in albergo invece ci sia una parte totalmente bruciata al di là della tenda che c'è qui nella parte in alto a sinistra e guardate tra l'altro che casse fighissime che c'erano in questo albergo per ascoltare musica e guardate come invece con lo scatto hdr si è stato recuperato enormemente il dettaglio attraverso questa tenda quindi veramente uno strumento potente che vi consiglio di utilizzare soprattutto adesso che è stato ulteriormente migliorato. Ovviamente quando ci si tratta di trovarsi con una forte luce si riesce a fare degli scatti veramente si riescono a fare degli scatti veramente ottimi con iPhone questo è un confronto veloce tra questa foto qui in 16 9 che vedete scattata con la RX100 e questa invece scattata direttamente con iPhone 7. Devo dire le differenze sono praticamente impercettibili se non nel bilanciamento del bianco che è comunque una cosa che si può evitare in post produzione. È chiaro che se andiamo a zoomare nei dettagli ad esempio delle foglie dell'albero nel caso di iPhone i colori si impastano per via della bassa risoluzione o relativamente bassa risoluzione quando invece vengono molto meglio mantenuti nello scatto fatto con la Sony RX100. Neanche a dirlo gli scatti con profondità di campo infinita diciamo sono praticamente comparabili soprattutto se la luce è fortissima come nei casi delle giornate di grande luce. Piccolo dettaglio sulla questione della profondità di campo. Abbiamo avuto un incremento dell'apertura del diaframma da 2.2 a 1.8. Questo in teoria dovrebbe aver migliorato anche le capacità di iPhone 7 di rendere degli effetti di profondità di campo maggiori. Ovviamente non è troppo così perché c'è un limite proprio fisico nella distanza delle lenti che impedisce di fatto di avere una profondità di campo dignitosa. Ad esempio questo scatto che definirei cubrichiano in cui è tutto a fuoco dal punto più vicino alla camera, quello più distante e vedete come destabilizzi anche un po' a vedere una foto di questo tipo in cui nella vita reale non si riesce veramente con gli occhi a mettere a fuoco così bene sia una cosa che è vicina come questo palo della luce sia le case che si trovano su un piano focale successivo. In questo senso vi consiglio di comprarvi un iPhone 7 Plus che in qualche modo riesce a imitare tramite le due fotocamere la profondità di campo oppure di evitare scatte di questo tipo perché secondo me sono poco riusciti. Ovviamente poi man mano che i soggetti si avvicinano all'obiettivo più è facile ottenere un effetto bokeh come potete vedere in questo veloce scatto di 3 drink. Andiamo avanti però su qualcosa di più interessante ancora ossia gli scatti in modalità notturna. Di cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che questa maggiorata apertura del diaframma e soprattutto l'introduzione dell'eccezionale stabilizzazione ottica della fotocamera di iPhone consentono allo stesso modo di ottenere degli scatti veramente piacevoli soprattutto con la scarsa luminosità e soprattutto di notte. Andiamo a visualizzare sempre il magico ponte di cui abbiamo parlato poco fa in uno scatto invece serale. Più che serale direi proprio notturno come potete vedere buio pesto. Allora per cercare di salvare lo scatto ho utilizzato una tecnica di lunga esposizione ossia ho optato per lasciare la macchina su cavalletto anzi l'iPhone su cavalletto e tenendo con un'apposita applicazione ho tenuto aperto diciamo il diaframma e in qualche modo ho cercato di catturare più luce possibile all'interno di questo scatto. Ovviamente il risultato può definirsi quasi soddisfacente ovviamente un po' piatta l'immagine i colori non sono il massimo soprattutto se cerchiamo di confrontarlo a quello fatto da Sony RX100 vedete come le luci siano infinitamente più luminose in questo senso ci sia anche una più corretta una più corretta visualizzazione di quelli che sono realmente i colori di quello scatto e in generale i dettagli sono molto più facilmente percepibili però c'è da dire che sempre complice lo scatto in RAW complice la lunga esposizione di iPhone e in qualche modo anche i vantaggi dovuti alla stabilizzazione ottica dell'insita appunto nelle lenti che permette di avere appunto delle esposizioni più lunghe senza la paura che venga mossa la foto sono riuscito comunque a strappare dopo un leggero editing della foto vedete una foto non troppo dissimile da quella scattata con RX100 vedete come questa è quella con RX100 questa è quella con iPhone 7 e vedete che i dettagli sono ovviamente molto più mangiati nella versione JPEG soprattutto scattata da iPhone però insomma si possa definire quasi salvabile vedete anche come in questi due casi qui in cui il tramonto è stato colto in maniera piuttosto buona da iPhone 7 vedete come anche ci sia impegnata anche la Sony RX100 a farlo veramente molto bene però vedete anche come abbia in realtà inciso avere una stabilizzazione ottica questo scatto qui è stato fatto con l'app di Moment che mi sembra non utilizzi o almeno non riesca ad utilizzare la stabilizzazione ottica della fotocamera e vedete come questo scatto sia venuto completamente mosso facendovi così capire quanto in realtà incide in una foto notturna questa nuova stabilizzazione ottica della fotocamera di iPhone in ultimo luogo voglio lasciarvi con una piccola sfida che vi ho promesso all'inizio di questo video se già non lo fate seguitemi sul mio profilo Instagram del canale che trovate qui sotto in descrizione e qui in sovraimpressione una volta fatto andate assolutamente a vedere le ultime due foto che ho pubblicato perché sono fatte appositamente in relazione a questo video infatti una è scattata con l'iPhone 7 l'altra invece è scattata con la Sony RX100 entrambe hanno un leggero editing per portarle a essere dignitose ma io voglio sapere da voi quale secondo voi delle due foto è quella scattata con la Sony e quale invece con la fotocamera di iPhone 7 lasciate un commento sotto la foto e tra qualche settimana annuncerò la verità direttamente su Twitter o magari su Instagram stesso insomma da qualche parte avrete le mie notizie. Detto questo se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti ma noi ci rivediamo sabato con il prossimo video